Eccoci, buon pomeriggio, puntualissimi alle 15, come previsto dal nostro palinsesto. Siamo tutti qui dagli studi di Globus Television, Vincenzo Lacorte e Salvo Russo per questa ennesima edizione di Calcionate Flash. Salvo, buonasera. Buonasera Vincenzo, buonasera ai nostri amici che ci seguono attraverso le pagine social, attraverso anche tutti i nostri canali che adesso andiamo a ricordare. Sarà una puntata ricca di contenuti perché con oggi in pratica si apre ufficialmente la stagione, nel senso che il Catani è già in ritiro da ieri, in quel di Assisi. Poi parleremo approfonditamente. Stadio degli Ulivi. Dallo Stadio degli Ulivi dove la temperatura pare sia abbastanza gradevole, anche se so che proprio invece nell'Italia centrale ci sono 12 città col bollino rosso, quindi probabilmente fa caldo pure lì. Un po' di influenza sicuramente arriverà. Assolutamente. E poi perché stamattina è stato stilato il tabellone, il calendario della stagione 2024-2025. Vincenzo, ricordiamo appunto… Andiamo con le coordinate, come sempre preghiamo alla regia di mandare la nostra grafica dove possiamo vedere insieme, discutere e comunicare con i nostri amici. Quindi canale 15 e 18 del Digitale Terrestre. Al solito diamo la nostra preferenza al 15 perché col tasto verde del telecomando sarete immediatamente connessi a Globus, qualora naturalmente utilizzasse una Smart TV. Poi il canale 268 della stessa tecnologia. Andiamo sul sito istituzionale www.globusmagazine.it slash video e le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, nonché la pagina calcionata e i commenti in casa rossa azzura su Facebook. Poi le ultime piattaforme arrivate quest'anno, Local TV, Cyber TV, che ci consente di essere vicino a tutti i nostri fratelli rossazzurri in tutte le parti del mondo. Infine per gli amanti degli smartphone, come fare a meno dell'app Globus Network Italia, che vi consente di verificare tanto la produzione video quanto quella audio, con la buona musica che potrete sentire sempre su Globus. Bene, abbiamo parlato di calendario, abbiamo parlato di ritiro, come sempre ci sono sempre sia arrivi sia rumor, sia rumor ci sono state partenze, nella partenza del ritiro ci sono, scusate il bisticcio di parole, partenze di partenze, è chiaro, sono partiti tutti, ma evidentemente questa rossa va asfoltita e implementata di altri nuovi per le disedirata del tecnico toscano, naturalmente. A proposito di questo, sono 30 i giocatori che attualmente compongono la rossa, naturalmente ci sono anche tutti quei giocatori in forze alla Catania, reduci dalla scorsa stagione, alcuni dei quali… Tranne pochissimi, ora poi magari li vediamo. Sì, ancora qualcuno da valutare, Toscano naturalmente e anche Faggiano si sono presi il tempo necessario per valutare bene tutto quello che c'è da valutare, oltre naturalmente poi ai nuovi che si sono già inseriti in questo gruppo. E poi ci sono ancora le voci di mercato, perché naturalmente il mercato è ancora nel pieno dell'attività, il Catania è una delle società che si è mossa centrando già alcuni obiettivi che erano stati preannunciati da tempo e inseguendo altri. Ci sono alcune trattative che sono apparentemente in stallo, altre si sono definite per forza di cose, per esempio quella di Artistico, che tramite la Lazio invece ha trovato poi altra sistemazione. Allora, partiamo proprio dai nomi nuovi? Sì, andiamo con le schede che abbiamo sempre preparato grazie al nostro grande amico Salvo Ferrigno per gli amici Turi Compagnia e quindi cominciamo dal nuovissimo portiere, il terzo in ordine, diciamo, gerarchico, questo ragazzino, questo Domiziano Tirelli, un prospetto giovane davvero, 2006, il ragazzo che l'anno scorso è stato il portiere titolare della rappresentativa di Serie D, quindi assolutamente un prospetto importante. Sì, è stato anche premiato. Ed è stato premiato con il miglior portiere giovane. Con il guantone d'oro, sì, sì, assolutamente sì. Una carriera ancora breve, veramente un po' all'inizio, però già ricca di soddisfazioni persone. È stato anche titolare in Serie D, è chiaro, quindi un profilo su cui, come dire, lavorare, ecco, perché naturalmente tra Adamonis, di cui abbiamo avuto tante volte la schermata disponibile, oggi ve la risparmiamo perché ormai lo conoscete bene, ormai lo conoscono tutti quanti, quindi fra Adamonis e Betters, eventualmente c'è da vedere se Furlan in ritiro andrà via, come immaginiamo, e poi c'è un quarto portiere, ma lo vediamo dopo, che è tra i convocati. Sì, c'è questo quarto portiere che è in prova. Un altro lituano, mi sembra. Sì, che si chiama Lukzemis, portiere classe 2005, quindi è chiaro, no, anche la strategia della società che va a cercare giovani di, non dico di belle speranze, eccola qua la scheda. Eccola qua, sì. Di Lukzemis, ma promettenti, peraltro in un ruolo delicato, a volte prioritario, come quello del portiere. Un Marco Antonio, eh, diciamo. Teniamo conto che in questo momento c'è una linea verde in porta del Catania, considerando anche Betters. È vero, è vero, è vero. È vero, un po' sulla falsariga di quello che era stata la Serie D e anche l'inizio della Serie C, perché ricordiamo che Betters era il titolare. Sì, era il titolare, assolutamente. Andiamo con qualche altra schermata, possiamo vedere nell'ordine, ci sono ancora Di Tacchio, se non ricordo male, che abbiamo già ovviamente contrattualizzato, è stato uno dei colpi tra i più veloci praticamente, di lui abbiamo già parlato, ci siamo espressi in passato, assolutamente è un centrocambista di quelli importanti, di quelli che la Serie C l'ha, ha fatto anche tantissima Serie B, uno che la Serie C la dovrebbe cavalcare praticamente. E' facile intuire, no? Proprio a destra dei vostri teleschermi, la carriera, tutta la cronologia. Altra figura molto importante è Di Gennaro. Di Gennaro, e forse non so se la regia però aveva prima, che abbiamo messo, mi pare che aveva prima D'Andrea, perché lo abbiamo messo? D'Andrea, perché abbiamo visto che è tra i convocati, no? E c'è scritto in realtà aggregato, però è chiaro che D'Andrea è un ragazzo del Catania, è chiaro che ci sono state delle incongruenze burocratiche che hanno rallentato l'acquisto, ma io suppongo che non ci siano problemi, salvo. No, assolutamente. Allora, diciamo che chiaramente il giocatore è stato aggregato perché il Catania ha di fatto concluso l'operazione. Ora si tratta di definire probabilmente alcuni dettagli, qualche cosa di natura amministrativa, però Filippo D'Andrea dovrebbe essere a tutti gli effetti un giocatore del Catania, uno di quelli su cui la società ha puntato moltissimo. Tant'è che, insomma, è stato definito poi, no? Tra l'altro un vero jolly d'attacco, eh? Assolutamente. Ricordiamolo. La figura che ci dicevi prima tu, Di Gennaro. Di Gennaro è un altro di quelli che è stato acquistato con molta celerità, un altro puntello su cui il Catania aveva bisogno, che aveva voluto investire, un centrale difensivo. E anche qui esperienza da vendere, tantissima serie C, qualche stagione in serie B, ma anche qui abbiamo un ragazzo che si farà valere sicuramente. 94, quindi trentenne. Sì, ex Carrarese, peraltro. Sì, sì. Quindi è uno che, insomma, lo scorso anno ha fatto un campionato di vertice, quindi conosce bene, no? Anche le strategie che si debbono adottare durante il campionato. A proposito di questo, centrale difensivo perché nel frattempo Curado sembra in uscita, qualche cosa ancora da rivedere, da valutare sia per Monaco che per Silvestri. Mentre Conte è stato definitivamente ceduto alla Casertana. Quindi in difesa diciamo che qualcosa ci voleva. In questo momento in Rosa ci sono dieci difensori. Con molti, diciamo, ex che potrebbero accadere. Allora, diciamo che tra i partenti quasi sicuri ci dovrebbe essere anche Rapisarda che dovrebbe accasarsi al Taranto, richiesto dal Taranto appunto di Capuano. Per quanto riguarda invece Celli, probabilmente il giocatore è destinato a restare in rossa-azzurra, dicevamo di Curado e Monaco. Per quanto riguarda invece Boa e Quaini, credo che la società... Più certezze che incertezze. Più certezze, sì, la società è molto chiara. Continuiamo la nostra carrellata di personaggi. Uno su cui battiamo da tanto tempo è Carpani, perché Carpani dovrebbe essere finalmente quel play basso che inseguiamo da anni, Salvo. Assolutamente sì. Figura che nella formazione che sta costruendo Toscano dovrebbe essere uno dei punti di riferimento certi. in una zona nevralgica del campo dove si va a sviluppare la manovra offensiva, ma dove anche in fase di interdizione serve un giocatore che peraltro lo scorso anno è stato praticamente quasi sempre disponibile e presente. Quindi 40 presenze, 39 da titolare, questo la dice lunga anche su quelle che sono state le strategie in sede di mercato seguite. Anche se è un 31enne, questo è un bel 31enne, perché uno con un rigore... Ma sai, in quel ruolo è importante, la saggezza, la saggezza. È proporzionalmente, come dire, importante. E il buon vino che invecchiando diventa sempre più buono. No, perché diventano più buoni... Ma poi con tale integrità fisica ben venga sicuramente. Ma diventano buone anche i piedi, diventano buone le idee, certo. Certo, no, perché il vino magari non è il termine giusto, perché il vino un po' come dire... No, ti fa rallentare... Diciamo uno champagne che dà con le sue bollicine... Ecco, con le bollicine. Con le sue bollicine, anzi un buon spumante italiano. Sì, spumante italiano. Andiamo ancora avanti con qualche personaggio, altri personaggi importanti di questa nuova squadra che sarà il Catania. Il primo Anastasio, ne abbiamo parlato dalle primissime battute per l'ambivalenza, per poter stare a destra e a sinistra, per il fatto che è un importante giocatore di fascia, che non ha problemi nell'avanzare, provenienza casertana, quella casertana dei miracoli della scorsa stagione. E parliamo di Armando Anastasio, ripeto, uno dei primissimi che abbiamo messo in evidenza da quando facciamo calcionate flash. Sì, è uno anche questo, no, affidabile. Lo scorso anno 39 presenze, quindi come vedi sono tutti profili che non solo conoscono bene la categoria, e questo è importante, ma hanno, come dire, fatto della loro presenza costante, il punto fermo, anche, credo, nella valutazione, sarò ripetitivo a dirlo, ma è proprio questo, no, che era stato evidenziato già in sede di presentazione sia da Faggiano, sia da Toscano. E quindi anche Armando Anastasio, che potrebbe inserirsi nell'ipotetico 3-5-2, costruito da Toscano, come esterno, come quinto. Un bel giocatore di fascia, assolutamente sì. Andiamo avanti. Andiamo ad un altro, abbiamo un altro personaggio su cui abbiamo battuto spesso. Stiamo vedendo un po' i personaggi che, secondo noi, saranno veramente le pedine importanti di questo nuovo Catania. E parliamo di Verna, no? Verna è stato anche questo, uno dei primi di cui abbiamo parlato, un altro centrocampista, un altro centrocampista di quei famosi trentenni d'assalto, che sono una garanzia ex Catanzaro, Catanzaro dove ha fatto la sua carriera importantissima, praticamente, ma anche lui esperienze di Serie B, che non sono mancate. Nel Catanzaro è stato partecipato di quella promozione del Catanzaro, anche perché sono quattro stagioni intense. Ti danno davvero una storia, ti fanno parte integrata di un progetto ed evidentemente Luca Verna ai progetti è molto affezionato perché quello di Catania sicuramente sarà un progetto altrettanto valido che gli è stato spiegato e per cui è stato convinto. A proposito di centrocampo, attualmente ci sono dieci disponibili presenti in questo momento ad Assisi, è chiaro che però si stanno valutando le posizioni di alcuni giocatori, come per esempio Welbeck, come lo stesso Sturaro e peraltro anche Cicerelli. Staremo a vedere perché sicuramente Welbeck ha mercato, ci sono voci di mercato, così come Zammarini, per quanto riguarda Sturaro è chiaro che qui bisogna essere chiari, Sturaro è una risorsa anche perché lo scorso anno il Catania ha fatto un passo importante nel portare Stefano Sturaro ai piedi dell'Etna. È chiaro che la stagione di Sturaro dello scorso anno è stata luci ombre, molte ombre più che luci, evidentemente il giocatore aveva bisogno di un periodo di ambientamento più lungo che può trovare, a meno che nella valutazione tecnica, squisitamente tecnica di Toscano, il giocatore non trovi spazio nella costruzione di quello che è il puzzle che si sta componendo. Però è chiaro che Sturaro potrebbe comunque anche dall'alto della sua esperienza trovare l'equilibrio giusto, dare l'equilibrio giusto alla squadra di Toscano e come anche Pedina, diciamo... Di esperienza sicuramente per fronteggiare le situazioni più diverse. O comunque giocatore disponibile che può entrare a partita in corso, sono tutte le situazioni che stiamo facendo noi, ma è chiaro che poi tutto questo deve essere confermato. Questo lo confermerà o meno Toscano dopo le prime settimane di allenamenti. Chiudiamo con le grafiche e poi passiamo ai messaggi dei nostri amici che ci stanno scrivendo numerosi. Io passerei per la voce che sembrerebbe più che una voce che è arrivata nella tarda mattinata di oggi che è quella relativa a Merola. Parrebbe che l'operazione con il Pescara sia fatta per cifre importantissime. Schirà, esperto di Serie C, la dà per un milione. Pedulla, altro esperto di Serie B e Serie C, la dà per un milione e due addirittura. Ma sembrerebbe che siamo davvero alla chiusura. Quindi Davide Merola, uno dei primissimi rumor di cui abbiamo parlato, Salvo. Sì, e quindi il Catania naturalmente ha avuto bisogno di tempo per sondare bene il campo, cercare le trattative giuste. Altri nomi ti dico. Sponda Vicenza, c'è sempre l'interessamento del Catania per Mario Ierardi. Così come sembra non svanita del tutto, anzi riproposta, l'altra pista che porta a Manuel Ricciardi al momento in forza con l'Avillino ma che è in rotta con la squadra Irpina. È un'operazione molto attesa. Certo, Merola avrebbe un po' i ruoli di Verna, più o meno. Sarebbe un po' su quelle onde. Però lui è molto più giovane. Lui è un 24enne, quindi evidentemente è il napoletano. Va bene, andiamo ai messaggi. Allora, andiamo ai nostri messaggi. I messaggi, Andrea Giustolisi è il primo a salutarci. Forza Catania sempre. Quando si presenta la campagna abbonamenti. Ti salutiamo, caro Andrea. La campagna abbonamenti dovrebbe essere questione di giorni, suppongo. La campagna abbonamenti dovrebbe essere questione di giorni. Penso che da tempo ci lavori il nuovo addetto al marketing, quindi sicuramente arriverà. Avevi qualche notizia da dare? Sì, intanto la società informa che, o perlomeno rende noto, che da domani, quindi da martedì 16 luglio, i bottiglini di Piazza Spedini saranno aperti per la consegna della card We Catania in giacenza. Quindi questo è importante appunto. Perché ci sarà uno stock di carte che bisognerà smaltire. Per i tifosi, sì. Per i tifosi che volessero seguire appunto il Catania la prossima stagione. Comunicato completo sul sito ufficiale del Catania FC che potete naturalmente consultare. Poi, altri messaggi? Leggo io. Leggo io. Cominciamo a leggere nuovamente. Antonio Scuderi, il caro amico Antonio, che saluta te e me. Buona trasmissione. Grazie Antonio. Buona serata. Mi saluta anche Rosario Galvagna. Ciao Rosario. Presso anche Gerardi. Narivo Merola e Lescano, ci dice il nostro amico Rosario. Insomma, abbiamo parlato di Gerardi, abbiamo parlato di Lescano, abbiamo parlato di Merola. Ma quindi, per motivi di spazio, non possiamo mettere tutte le foto, perché sennò faremo solo quello. Assolutamente. Solo l'album delle figurine faremo. Assolutamente. E quindi potremmo mettere un video e farlo girare. E poi ancora abbiamo, comunque grazie Rosario per il tuo intervento, poi ancora abbiamo Francesco Lippo. Buon pomeriggio a voi. Campagna Moramenti sarà presentata il 24 luglio, ci dicono. Ci dice Francesco Lippo che è così, Narte Ciccio Lippo. E ti ringraziamo. Il play basso di Tacchio, Carpani, Mezzala, di inserimento, ci dice Rosario Galvagna. Queste sono le sue, diciamo, dritte. Giovanni Faro, saluti a tutti e due. Poi dice, torneremo, Francesco Lippo sempre ci dice, torneremo in Serie B. Un ottimo alvio del calendario. Ora poi ne parliamo. Ne parliamo. E poi ancora, Vincenzo Salvi, una domanda, Merola o Corazza? Ci sono più obiettivi come l'Escano, De Rose, almeno quattro colpi col botto verranno presi. Mi sembra che sia più Merola che Corazza al momento, però non è esclusa. Allora, fino a un paio di giorni fa sembrava più Corazza che Merola. Infatti, era al contrario. Perché Corazza è stato uno dei punti di riferimento di Toscano al Cesena e non solo. E quindi, qualche giorno fa, appunto, sembrava più Corazza. Adesso si avvia. Corazza, probabilmente, in questo momento prende più affidabilità e più affidabile la pista che porta a Merola. Nel calciomercato, però, nulla è sicuro. Mai scontato. Fino a quando non c'è il contatto. Non c'è l'ufficialità, sicuramente. E l'ufficialità. Quando arriva il messaggio del Catania FC, sicuramente. La cosa che conforta, questo lo diciamo anche da osservatori, è che comunque sono due profili di altissimo profilo. Vero. Assolutamente. Ridondanza di profilo, ma abbiamo capito. No, no. Bisticcio di parole. Di altissimo rendimento. Assolutamente. Sia Merola che Corazza. E quindi il Catania, in questo caso, sta mirando a profili di spessore. Di grande spessore, ecco lui. Giovanni Faro ci dice Cicerelli, lo terrei. Francesco Lippo, Ricciardi, o Rinnova, o Aimbì, da Rumors Avellinesi. I nostri amici sono tutti informatissimi. Seguono tutti i siti degli amici. Bene così. Meglio così. Meglio così ci aiutano attivamente nella trasmissione. Daniele Ruggeri, sull'Escano ci sono novità. Ne ha parlato Salvo poco prima, che è un rumor sempre caldissimo. Anzi, Rosario Galvagna ci ha detto che secondo lui è già in odore di firma. Sì, l'Escano è da qualche settimana che gira il nome e per la verità nelle ultime ore si è rafforzata. Si è rafforzata. Si è rafforzata. Si è rafforzata. Ha giocato a Trescare insieme a Merola. Assolutamente. Potrebbe quindi. Diciamo che ci sono in questo momento dei nomi che girano, anche perché ci sono dei contatti diretti con alcune società. Catanzaro abbiamo visto, così come Cesena, così come Vicenza, sono tutte società che hanno un dialogo aperto, diciamo, con Catania. In questo dialogo, se vogliamo, c'è inserito anche il Taranto, che però guarda al Catania per avere alcuni elementi. Alcuni Welbeck, Rapisarda, si era parlato anche di una terza figura, non mi ricordo adesso. Ci sono contatti. Quindi poi, sai, a volte le strategie si combinano in modo tale che staremo a vedere operazioni in entrate e in uscita. Possono mutare alcuni granati. Saluto da Bari, da parte di Francesco Ardizione, che salutiamo anche noi. Grazie a Mauro Vaccaro che mi dà il bentornato. Grazie caro Mauro. Rosario Galvagna mi parla di Bocic, sì, la persona che interessava il Taranto. Giusto? Sì, anche Bocic. Grazie, mi sei venuto in aiuto, caro Rosario. Sì, Bocic è fra quelli indicati. Tal'altro non convocato, perché ricordiamo che fra tutti i nomi noti i convocati non sono praticamente tutti gli attaccanti. Marsura, Bocic, Costantino, Di Carmine e Ladinetti come centrocampista. Poi per il resto sono tutti convocati insieme a D'Andrea che esce aggregato, ma è chiaro che sarà questione di momenti, e l'Auskames che è il quarto portiere aggiunto in attesa di verificare, in prova. Quindi questa è tutta la situazione. Vediamo un po' la grafica sulle uscite sul campo ad agosto, perché insieme alla Coppa Italia possiamo mettere anche a fine agosto questa prima partita del campionato. Quindi vediamola un attimino completa. No, non le uscite. Va bene, queste sono le uscite nel senso dei giocatori o per fine prestito, o per svincolo, o perché ceduti ad altri. Eccola qua. Dunque, vi ricordiamo, sabato di agosto il preliminare contro la Carrarese, se si va avanti i 32esimi ci sarà domenica 11 agosto il Cagliari in casa loro. Poi ancora, secondo turno eliminatorio, eventualmente non si andasse avanti con la Coppa Principale, ci sarà anche il secondo turno eliminatorio con la Coppa Italia di Serie C. Quindi domenica 18 agosto finalmente a Catania, Catania contro la vincente tra Crotone e Messina. E poi prima turno del campionato, domenica 25 agosto, Sorrento-Catania. Sorrento-Catania che non vuol dire che si vada a Sorrento, caro Salvo. Si giocherà a potenza, perché perdura l'inagibilità dello stadio campano e quindi si va a potenza. Quindi la prima e l'ultima a potenza, perché l'ultima... Si apre e si chiude a potenza. Infatti. Apro una parentesi, purtroppo, perché lo scorso anno potenza è stata una debacle completa su... Sì, assolutamente. Vediamo... Non abbiamo ricordi, diciamo che non abbiamo bei ricordi di potenza, ma quest'anno sfateremo assolutamente tutto, proprio perché inizio e fine, o se volete fine d'inizio. Vediamo se la regia ce l'ha disponibile, perché non ricordo se l'abbiamo montata in progressione, il calendario completo del girone C. Allora, intanto vi diciamo che la prima sarà a potenza contro il Sorrento, ma poi c'è subito un big match, perché è chiaro che il Benevento, al pari dell'Avellino, è probabilmente di qualche altra formazione, che come sempre poi sarà outsider. Ma diciamo che in questo momento gli osservatori anche esterni dicono che Benevento e Avellino sono sempre le candidate oltre al Catania. Però è chiaro che i primi turni sono abbastanza importanti, perché Catania-Benevento, poi si andrà in quella di Alessandria, giù di lì, anzi è Spolto-Rovereto, dove gioca la Juventus Next Generation, lo stadio Moccagatta e quindi subito il Catania andrà a sfidare i giovani della Juventus. Poi si prosegue, si scende, scendiamo velocemente fino, se vuoi, a Casertana-Catania, altro match interessante. Catania-Audace-Cerignola, primo turno settimanale, Giuliano-Catania, infrasettimanale, 22 mercoledì. Poi il 2 febbraio ci sarà la sfida con una delle neopromo, anzi no, scusa, con l'Audace-Cerignola, no, con l'Altamura invece il 13 di ottobre, leggevo la partita di ritorno, ma eventualmente quella è tutta un'altra storia, scendiamo invece fino alla tredicesima giornata, anzi forse un po' prima. Il rinnovato derby? Tredicesima giornata, al Massimino il primo derby, quello con la CR Messina, poi si va a Crotone, poi l'altro derby, sempre al Massimino, ritrovato, ritrovato col Trapani e poi attenzione perché si torna ad Avellino il 24 novembre e si chiude questo poker di incontri, di sfide molto molto importanti contro appunto l'Avellino, poi si torna in casa e poi si chiuderà appunto con il Potenza, non è Catania-Carrarese, è un buon auspicio, significa che il prossimo... L'altro turno infrasettimanale è il 30 ottobre, Turris-Catania, altra giocata di mercoledì. Altra giocata di mercoledì. Va bene, su questo poi magari avremmo modo naturalmente di parlare anche con l'ausilio dei nostri amici che ci stanno seguendo da casa, è chiaro che la parte centrale, quella della tredicesima alla sedicesima giornata, è già tosta, nel senso che lì dovremmo capire, vedere meglio quali sono le potenzialità del Catania. Allora, leggiamo gli ultimi commenti, caro Salvo, e andiamo in sigla, mai una sigla e un intermezzo, perché c'è una piacevole prosegue di questa giornata, ora ne parliamo. Un intermezzo musicale. Esatto, esatto, esatto. Quindi abbiamo Giovanni Faro, che mi chiede se seguiremo le partite allo stadio, ritengo di sti, vediamo, poi ve ne daremo contezza. Saluti dal Portogallo da parte di Luca Castelli, grazie caro Luca. E poi, buongiorno da parte di Santostrano, vorrei sapere la vostra opinione, un professionista serio che non rientra nel progetto Catania, va a rescindere il contratto, non vuole rimanere per percepire lo stipendio per forza. E beh, ma ancora noi non sappiamo, queste sono state cose che sono state dette, ma noi non sappiamo se in effetti vogliono per forza arrestare tutti o si troverà una soluzione. Suppongo che si riferisca a tutti i contrattualizzati con grossi, diciamo, contratti che si è detto non vogliono andare via, ma non lo possiamo dare per scontato. Non sappiamo che effettivamente... La mossa della società è chiara, no? Si. Vi ha portati in ritiro. Si. Tranne quei pochi di cui abbiamo fatto... Tranne quelli che già erano certi. Si, si, si. Spenderanno il tempo necessario per valutare tutto per bene, anche la loro disponibilità eventualmente, e se rientrano poi, la cosa più importante, è nel piano tattico-tecnico di Toscana. Va bene, allora siamo proprio in chiusura. Siamo in chiusura e saluto anche Davide Commendatore, e ciao anche a te. Vi ricordiamo, domani c'è la replica, no se non ricordo male? Assolutamente. Replica sempre a partire dalle 15 sul canale della 7 Gold, e ora Telerent, quindi canale 15, in chiaro nel contenitore chiamato Top Calcio 24, potete rivedere questa puntata. Non andate via perché è importantissimo, ci sono qui tutto lo staff generale del Wicatania Soccer FC, che è con la Coppa Italia, non perdetevola. Quindi abbiamo qui il presidente Di Benedetto, mi sembra anche il direttore generale Giuffrita, allenatore d'amico, spero ci siano tutti e tre, ma sarà bello vederli insieme con la Coppa. Intanto grazie, e a lunedì prossimo grazie a salvo anche. Grazie Vincenzo. Ciao. Ciao.